Buongiorno a tutti dal comitato anti-racket, anti-abusivismo, Tullio Trapasso e City Report. Oggi ci troviamo all'interno di un vecchio tempio della musica che è il Palace Sharp. Siamo venuti qui a riprendere determinate situazioni. Guardate tutti gli immigrati che corrono, tutti i clandestini, tutte persone che vivono di espedienti e di illegalità. Vi portiamo a dare un'occhiata un attimo all'interno. Sì, questa è la parte esterna. Io ti direi, affacciati lì dalla porta. Mi sarebbe piaciuto arrivare di là, Tullio, ti dico la verità. No, fai solo una cosa da qua. No, mi sarebbe piaciuto arrivare di là, così facciamo vedere tutte quante le cose. C'è capisci? Sì, ok. Secondo me qua è tutto a posto. Ok, come potete vedere sono parecchi che dormono qui dentro in questa struttura che adesso il Comune di Milano utilizza per il culto islamico e che ci sembra che sia una struttura fuori legge, dato che è stata bloccata tutta l'attività regolare di lavoro. Per ora vi salutiamo, stiamo per entrare nella struttura chiusa. Un saluto a tutti, Tullio Trapasso e andiamo avanti. Ed eccoci, siamo all'interno del Parashack. Alle spalle, attraverso questo vetro potete vedere la struttura dove eravamo prima. Guardate che belle scritte. Qua la sciaccia. Le immancabili biciclette che non mancano mai. E adesso andremo, insieme ad Aurelio Miranda e a tutti i nostri amici, andremo a vedere le altre situazioni. Seguitemi. Seguitemi, per se la parola seguitemi. Cambiamole qua. Una volta qui si veniva, si faceva il biglietto, si veniva a vedere il concerto dei REM o dietro che potete vedere anche da là, a pernottare attivamente. Gira con calma la telecamera, se non lo sento giù. Se abbiamo uno che ci gira fuori. E le stanze per notte, addirittura dei temposi della Ferrari. E... Aurelio, scusami se ti interrompo. C'è uno che ci gira dietro. Certo, non ci fa tanto piacere, andremo a salutarlo dopo. Direi che per ora possiamo chiudere. Salutiamo. Andiamo avanti. Seguiteci. Comitato Antirache, Tullio Trapasso, Sipirepo, Aurelio Miranda. Andiamo avanti.